L'idea del convegno nasce dall'esigenza di creare un link tra il centro per l'epilessia attivo presso la prima clinica neurologica della Bambitelli di Napoli e il territorio, quindi tutte le figure mediche e paramediche attive sul territorio e interessate appunto nella gestione dei pazienti con epilessia, dal medico di medicina generale che rappresenta di solito il primo filtro nella gestione di questi pazienti, cardiologi, neurologi, tecnici di neurofisiologia. Ci sarà una prima sessione dedicata soprattutto agli imitators clinici dell'epilessia, cioè tutte quelle condizioni che entrano in diagnostica differenziale, una seconda parte invece cardiologica in cui si affronterà il problema della sincope cardiogena e una terza parte in cui si parlerà dell'epilessia in particolari condizioni fragili della vita come l'età avanzata, la gravidanza o l'età infantile. Poi si parlerà praticamente di alcuni aspetti della gestione del paziente epilettico tra gli eventi avversi appunto dalla terapia farmacologica, l'annoso problema della prescrizione del farmaco brand o del generico vista l'enorme invasione dei farmaci cosiddetti generici in neurologia e in particolare in epilessia, fino ad arrivare ad una parte medico-legale in cui uno specialista in medicina legale ci informerà sui diritti, doveri e sulle possibilità di esenzione dei pazienti affetti da epilessia. In un'ultima sessione del convegno invece alcuni pazienti verranno a raccontare le proprie storie cliniche e con loro seguiremo il loro percorso diagnostico fatto e il loro percorso terapeutico per capire quanto è cruciale e quanto è importante il rapporto medico-paziente nella gestione della loro patologia e nella corretta diagnosi e nella corretta terapia.